Il dibattito sul crocifisso approda in Consiglio regionale. Con 27 sì della maggioranza e del gruppo moderati e 8 no della minoranza, l'Assemblea ha approvato l'ordine del giorno presentato da Andrea Cane, Lega, che impegna il Consiglio e la Giunta regionale a difendere e salvaguardare l'importanza storica, culturale e religiosa del crocifisso e inoltre a procedere all'affissione di un crocifisso nell'aula del Consiglio regionale dietro i banchi della Presidenza. Siamo riusciti finalmente a votare con esito molto positivo questo ordine del giorno. È importante mantenere crocifisso dove c'è, è anche importante affiggere crocifisso dove non c'è ancora, per ribadire ancora una volta il simbolo di pace, di fratellanza, ma anche di laicità dello Stato che porta questo simbolo. Contestare oggi il crocifisso, il nome della laicità, significa fare un'offesa alla laicità, negare la laicità. La laicità nasce con Gesù Cristo. Non è un ostacolo posto da Gesù Cristo nell'ambito dell'esplitamento e dell'attività dell'uomo. E per questa ragione noi affermiamo l'esigenza di riconfermare questa scelta. L'ordine del giorno presentato dalla Lega è stato approvato, è stato approvato a maggioranza. La fede è una cosa seria, troppo seria, per entrare a far parte del dibattito politico come bandiera da sbentolare. Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'ordine del giorno che permette l'affissione del crocifisso nell'aula consigliare e il commento dei consiglieri di Forza Italia. Mai come in questo momento storico pensiamo sia necessario preservare in Italia la nostra storia e le nostre origini, pur nel rispetto della Costituzione. Il Consiglio regionale ha anche approvato all'unanimità con emendamenti l'ordine del giorno presentato da Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, che impegna la Giunta a difendere ed esaltare i valori della legalità e del contrasto alla mafia attraverso affissioni di fotografie dall'alto valore simbolico. Nessuno di noi ha votato favorevolmente alla posizione del crocifisso in aula. Siamo comunque soddisfatti dell'approvazione di un atto di indirizzo che chiede di apporre la foto dei giudici Falcone e Borsellino, non in aula consigliare come da noi inizialmente richiesto, ma in sala Morando. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia si è detto soddisfatto dell'esito della votazione. Sono convinto, ha commentato, che il crocifisso rappresenti la cultura e le tradizioni italiane. Ritengo giusto che sia fisso in scuole, università, uffici pubblici così come nei luoghi istituzionali.